Buongiorno, buongiorno al dottor Claudio Saracino da Benessere Ipnosi Soluzione, l'ipnosi di CS vera e professionale con la V maiuscola, unica al mondo. Oggi rispondo ad un signore di Londra, Inghilterra, che mi fa questa domanda. Dottore, so che Gianluca Vialli, famoso calciatore della nazionale italiana di un tempo, ha un tumore al pancreas. L'ho scoperto a questi europei con Mancini, la nazionale italiana di calcio. Lui si è fatto tutte le operazioni, radioterapia, chemioterapia, tutto di più. Però, secondo lei, con l'ipnosi, siccome io sono un suo fan sfegatato dai tempi della Sampdoria, si potrebbe fare qualcosa per aiutarlo? La risposta, ragazzi, è sì, 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 al 101%. Che cosa succede? Esiste anche un audio molto potente e naturale dal titolo No Cancro, che trovi sul sito della mia associazione Iprologi Associati, Los Angeles Baby Reals, ma esiste in Inghilterra uno stuolo di professionisti dell'ipnosi vera e professionale con la V maiuscola, anche se non usano l'ipnosi di ICS unica al mondo, che hanno affrontato casi con l'ipnosi di tumore, di cancro. Non credere a nessuna parola del sottoscritto. Devi andare su The Lancet, una rivista scientifica internazionale, e vedere i casi studi tra cancro e ipnosi. Per cui, senza nulla togliere alle medicine tradizionali, alla radio, alla chemio, alle operazioni che più ne ha più ne metta, io, se fossi in Vialli, andrei, se non volessi utilizzare il metodo di ICS, l'ipnosi di ICS vera e professionale, andrei da un professionista dal vivo, se magari lui, Vialli, vuole andare dal vivo, a Londra, magari uno rinomato, conosciutissimo, accreditato, che abbia però già affrontato casi come il suo, perché anche nel mondo dell'ipnosi non tutti fanno tutto. Mi siederei e inizierei delle sessioni in presenza con questi professionisti. Ok? Perché al momento il sottoscritto ha sospeso le sessioni online di ipnosi di ICS vera e professionale, con la V maiuscola unica al mondo. Per favore, ti prego, non credere a nessuna parola del sottoscritto, ma se avessi un cancro, io utilizzerei, a parte le terapie tradizionali, i consigli medici e compagnia bella, utilizzerei anche il potere della mia mente con l'ipnosi di ICS vera e professionale, unica al mondo. Non voglio che passi questo messaggio come bestemmia, perché nel sottoscritto, nell'editore, negli associati, pur contando molti medici, molti psicoterapeuti all'interno dell'associazione Ipnologi Associati di Los Angeles, Bavid Hills, noi non facciamo né diagnosi, né cure, né terapie, devi sempre e comunque andare dal tuo medico e dal tuo specialista della salute e vedere che cosa hai, che cosa non hai e cosa fare. Perché l'ipnosi di ICS vera e professionale con la V maiuscola non si sostituisce a nessuna cura medica. Se il tuo medico non ha nulla, è in contrario, puoi integrare e provare ad eliminare la vera causa che sta nel tuo subcosciente e chi si somatizza nel tuo corpo, in questo caso nel pancreas, e che risale al tuo passato negativo. Se tu elimini quell'immagine, quell'emozione negativa, quella vera causa che un tempo ti ha provocato, rabbia, paura, vergogna, impotenza, preoccupazioni, qualcosa di scioccante emotivamente parlando, che si è somatizzato in questo caso nel tuo pancreas, tu come per miracolo, il miracolo della tua mente, come per magia, tu avrai veramente il pancreas pulito, senza sé e senza ma, perché i miracoli della mente accadono ogni santo giorno. Ti prego, documentati, non credere a nessuna parola del sottoscritto, documentati, approfondisci e poi fai, fai azioni. Tanto che cosa ti costa? Non sono geloso, puoi andare da qualsiasi altra parte, in qualsiasi parte del mondo in cui risiedi. E Londra è una zona molto ricca di professionisti dell'ipnosi, vera e professionale, che non ha nulla a che vedere con l'ipnosi fuffa, l'ipnosi paura, l'ipnosi da film, l'ipnosi da spettacolo. Aspetto le tue domande, visita il mio sito internet www.iprologiassociati.com, la mia fanpage su Facebook, ipnosi, ipnosi del dottor Claudio Saracino, iscriviti a questo canale YouTube, benessere ipnosi, soluzione del dottor Claudio Saracino, faccia i condividi con amici e parenti, perché può essere quel guida, quella molla che gli può cambiare la vita, seguimi anche sugli altri social, Instagram e Twitter, benessere ipnosi, soluzione di CS, del dottor Claudio Saracino, un bacio, un abbraccio amico mio, amica mia e alla prossima del dottor Claudio Saracino, alla tua, ciao.